Dicono che il cervello delle donne è più piccolo di quello degli uomini. Oh, io non sapevo neanche se ce l'avessero. Conrado Nuzzo, fina umorista pugliese, è scritta l'altro ieri. Grazie. Niente di che, niente. Hanno apprezzato. È piaciuta. Gli uomini più invecchiano più diventano affascinanti. Ma è da salma che raggiungono il massimo. Maria Di Piazze, sagaccio di Santrice Morissana. Grazie. Ci sono più donne in sala. Grazie. Ha fatto tappa a Palermo la estirarante comicità di coppia di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Ha voglia di mettere un rumo. Con il trunzio di un'azienda di babà. Sono sbarcati al Teatro Dante con un bagaglio carico di gag che indagano con ironia la banalità del quotidiano. Lo diciamo. Il Nuzzo Di Biase live show è il meglio del peggio di tutto quello che abbiamo creato negli anni, sia in teatro che in tv. Tutti i schiacci che provengono dalla vita reale, dagli spaccati della vita di coppia e non solo. Però non la nostra vita di coppia. Confessi, no, no, non la nostra. Non la nostra, quella degli amici però. Amici e parenti vengono così devastati e depredati delle loro storie. Maria, partiamo che ha fatto una gavetta veramente strana, la racconto perché mi piace, ha fatto il classico, poi si è laureata in matematica e poi ha iniziato a fare teatro e tv eccetera eccetera. Io invece un po' più lineare perché ho iniziato a fare teatro, poi ho fatto teatro, poi sono in teatro. Però guarda, vogliamo rassicurare tutti, sta smettendo. Sì, sì, smetterò a breve, ve lo dicono. Hai visto Mestelle? Sono solo due. Non è un buon albergo. Hai sentito? Cosa? Siamo stati appena intervistati da Blog Sicilia. Starei scherzando spero. Non stavo scherzando. Grazie allora. Ciao.